Ehi, lo sapete che vi dobbiamo testare questo oggi? Ferre, sono spaventati, guardali, guardali, guardali Allora, io gli do un pugno Ma Ferre! Sai perché? Perché so che si riveleranno anche loro degli incompetenti Quindi per prevenzione io gli do già un pugno Ah, mi vuole pestare? Ti spacco la faccia Spacco la faccia pure a te che sei un incompetente Guarda, neanche una ragazza sei picchiare Ti fai pure sconfiggere dalla ragazza Ferre, il test è se sono bravi Non più applausi, calmati, calmati Ma il test è se sono bravi a prendere il fuoco Non a picchiare Adesso te ne sono arrivati altri due Ragazzi, come va? Io sono Ferre, Niki E io sono Stai, perché sto giocando GTA V E oggi a grande richiesta Tesseremo finalmente l'intelligenza dei pompieri Esattamente, abbiamo fatto un sondaggio I pompieri hanno stravinto su tutto Quindi abbiamo fatto, ok Oggi testiamo l'intelligenza dei pompieri Esatto E abbiamo preparato delle cose davvero interessanti Però Ferre li ha massacrati E la prima cosa che dovevo provare Non è vero, non hai le prove Eh, Ferre, sai Non ero io Non ero io L'hanno visto un po' di persone Giusto un pochino Allora E poi mi hanno provocato Mi stavano guardando male Io ho semplicemente risposto Stef, non è colpa mia Scusate Di disgrazie Ok Ok Arriva sempre dell'ispirazione Ah, ok Quindi devo prendere a pugni più persone Ho capito No, no, non ho detto quello Ok, nemmeno anche tu No, Ferre Smettila Ok, dai Quindi che facciamo adesso? Allora Cosa succede se noi mettiamo fuoco al bancomat? Così Allora, prima chiamiamo i pompieri Quando sono vicini Allora, sono un attimino arrabbiata Perché io in questo momento Non ho una tannica con me Ora, ora sta arrivando Vai, 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 vai Ok Ok Ah, il bancomat di per sé Non prende fuoco Non prende fuoco Tirane un altro Perché prende fuoco il pavimento Però è un peccato Speravo prende fuoco Ok Ok, adesso stiamo fermi a guardare Ehi Aspetta Stanno accorgendo Molotov dopo Molotov Guarda Ferre Ok Cioè Si sono spaventati E sono scappati Dei pompieri che hanno paura del fuoco Sembra l'inizio di una barzelletta Allora, Ferre Iniziamo a far su serio Ok Questa, secondo me È una cosa molto interessante Va bene Ok Se noi mettiamo fuoco Davanti alla loro stazione Fanno qualcosa Lo spero O si spaventano Come se fossero dei civili normali Perché Potrebbe accadere anche quello Fede Sarebbe ridicolo Sarebbe ridicolo Ma potrebbe Allora Allora Cosa metto fuoco Dai Allora Ma qui davanti Proprio tipo Mi metto magari qua Io farei Con la tanica Tutto un percorso gigante Tutto un percorso gigante Di benzina Guarda Mi è venuta un'idea Aspetta Aspetta Devo selezionare la tanica Io sono abbastanza preoccupato Mentre ti guardo E te lo dico Ok 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 Tranquillo Sì Sì Puoi iniziare anche a dirmi l'idea O è una sorpresa Facendo un cuore Un cuore Un cuore Un cuore di fuoco Un cuore di fuoco Un sicura Fede Sì Un cuore di fuoco Ma a me non sembra un cuore Sembra un pipistrello Fede Fede Secondo me stanno andando dietro A prendere un altro cambio Sicuramente Sì Sicuramente Sì 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 Non hanno scavalcato un muro Per scappare via Vero Fede L'altro Neanche ha avuto il coraggio Di scavalcare i muri Perché sono persone Molto coraggiosi E giusto per dire Anche quelli che stavano Nel balconcino Sono scappati via Sinceramente Io mi aspettavo Che sarebbero scappati Quindi passiamo Alla cosa successiva Ok Vedi l'idrante La pompa Quello che sta sopra Ci stavo riprovando Scusami Sì lo vedo Lo vedo Capito Puoi stare fermo Mentre parlo Questo Esatto Secondo te Lo possiamo far esplodere E quindi toglierlo dal veicolo Allora Vediamo se ho quello che ci serve Guarda Stef Ok Ecco qua Cioè secondo me Esplode direttamente il camion Però c'è una piccola possibilità Che non esploda tutto il camion Allora secondo te la bomba va bene Proprio sull'idrante Sì no È perfetta lì Esplode tutto No però aspetta Vediamo È rimasta lì Ok 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 Quasi sono staccati dei pezzi Quindi è invincibile Perché sarei stato curioso Di magari far esplodere La pompa dal veicolo Dopodiché mandare Diciamo I pompieri a lavorare Da qualche parte Fere è bravissima E quindi vedere se avrebbero lavorato Anche senza quella No vabbè mi sembra un veicolo Che se si distrugge Si distrugge Nell'intero Quindi fa proprio parte di tutto Ok molto interessante Sono delusissimo Del fatto che non hanno spento Un incendio davanti A loro stessi Però è comprensibile E adesso voglio testare Un'altra cosa simile Ma un po' diversa Voglio testare una cosa Appiccando un incendio Bello grande Ok Per adesso Dammi una mano Devi pensare prevalentemente Ad ammazzare la polizia Perché Altrimenti mi danno Un sacco di fastidio Ok ci sto Ed è tutto più complicato Volevo utilizzare L'arma che Diciamo Mette fuoco con i proiettili Però mi è sembrata Abbastanza inutile Quindi vado di classica Granate Allora che devo fare Quindi c'è in dove a piccare Spiegati meglio Allora per adesso Facciamo esplodere un po' di veicoli In modo tale che bruciano E di conseguenza Attirano i pompieri Perché il fuoco Nelle macchine A me sembra in assoluto Il fuoco che dura più tempo Quindi Un po' di veicoli parcheggiati I veicoli che passano Eccetera eccetera Ok perfetto E aspettiamo che arrivino Dei pompieri Dopodichè Testiamo diverse cose Abbiamo fatto un bell'incendio Cioè Macchina da polizia Che brucia qua Macchina lì Che sta bruciando Macchina là Che sta bruciando Ci sono macchine Che prendono fuoco Ovunque E al momento I vigili del fuoco Non stanno arrivando Ma credo che siano lì Davanti a noi Li vedi Sì 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 hanno le sirene accese Sono loro Perfettamente Adesso dobbiamo testare Diverse cose Prima di tutto Facciamoli scendere E facciamoli fare Il loro lavoro Perché comunque Osservare Diciamo I pompieri All'opera Secondo me È una cosa Molto importante Dici Sì perché Danno già spettacolo Da soli Allora Uno è andato Si è spento l'incendio Mentre andava E mentre passa E si mette a spegnere Lo stesso E questa è la prima cosa Che non ci siano Altre Altre No certo 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 è stato molto bravo Dopodiché Mi sa che gli altri incendi Si sono spenti Mentre Questo spegneva Quello inutile E di conseguenza Il loro lavoro è già finito No 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 Qua sta ancora bruciando Qua sta ancora bruciando Vediamo se lo notano Fammi spostare Che non si sa Che non ci passino Ok Vediamo 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 Se notano La macchina Che prende fuoco No si era appena spenta Ma cioè dai Non stava ancora prendendo fuoco Quando loro stavano camminando L'hanno totalmente ignorata Sai che E poi scusa Hanno lasciato un poppire qua Guardalo Io temo che loro prendano Un fuoco in particolare Nello specifico E scappa E spengono quello E che fa? Non lo so Ha iniziato a correre a caso Mi sono preoccupato per un attimo Ho avuto paura Vediamo dove va Vieni dai Lo inseguiamo per un po' Ah Ha visto il camioncino Forse lo stava inseguendo Vedi che va verso a dietro Nel camioncino Stai inseguendo i suoi colleghi Ma che tristezza Cioè Ma non ci arriverà mai Ma qualcuno glielo deve spiegare Ma povero Ho un proiettile incendiario Ok Se sparo nella bombola Che lui ha dietro È scomparso È scomparso No no Io lo vedo ancora Ma davvero? Sì sì Si è fermato Ah ora lo rivedo Mio Dio sta sparando E riapparando Magico vai Bombola gialla O estintore? No quella rossa Quella rossa Perché oppure Con quella dietro Lo fai esplodere a lui Ok Vado Vai Ma aspetta Erano proiettili infuocati Sì ma non è normale Ciò che è successo Non è il minimo Non è che ha preso fuoco Perché tu Però io ho sparato L'estintore in pieno Non può prendere fuoco Lui Sparando all'estintore Ma magari il proiettile Fa prendere fuoco tutto Non lo so Ma è strano Non lo so E soprattutto Di solito non muori Cioè Bruci per un po' Ma non muori Ciao Dove stiamo andando C'è un incendio È urgente Sì Ok bene bene Andiamo andiamo Forza forza Ok ovviamente Io volevo testare Ti rispondono Ma se No Una rissa E mi stanno spostando Il veicolo Io non l'avrei mai detto Ero convinto Che gli sparassi E basta E scappassero Perché tanto scappano E basta Questi qua E invece ti rispondono Guardali Nella serie Tutto Tranne che l'acqua Ma si stanno pure arrabbiando No allora Sono usciti Hanno Si sono spaventati Hanno rovinato tutto Vai di nuovo In retromarcia e risparali No ma non c'è più nessuno Sopra Sono scappati Allora praticamente È una cosa strana Cioè No vedi che non risponde Non risponde in automatico Il veicolo No infatti È quello Quindi sono loro Che l'hanno azionato Perché non è il veicolo No sì ma Dalla minimappa Ho pure visto che c'era Il bollino rosso Di loro arrabbiati Però mi sono allontanato troppo E quindi loro sono scesi Dalla macchina per inseguirci Mi spari acqua E poi sono scappati E loro ti rispondono Sparandoti acqua È stato un capolavoro Ok non resta che testare Il treno E sono davvero curioso Però Ci hanno diciamo Deluso tutto il tempo A parte questo momento Di apice Che è stato davvero Altissimo Questo è bello Allora abbiamo capito Questo è stato bellissimo Che fanno schifo La prendi E basta Pronta Ma Fede No io voglio stare sul treno Eh ho capito Però potrei Aspettare che io frenassi Allora Ecco Non ce la faccio Devi aspettare Che ci siano i binari bassi Ora Ma continuo a darmi con Uh ce l'ho fatta Addio Fede Addio Inseguimi Vabbè riprendo il camion Dei pompieri Ti raggiungo Ok No mentre preparo Un bell'incendio Vai 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 Assolutamente sì Ok Allora facciamo ad acqua Con la mia bella tanica Noi praticamente Per adesso Prepariamo una bella Pozzangra di fuoco Per quando Chiameremo i pompieri E nel caso Saranno vicini a noi Eh Dove sei Fede? Sto passando Mi hai superato Bene Sì devo provare di nuovo Allora vado molto lontano Quindi cerco di prendere Cosa c'è? Sai che se io uso La tanica Nel treno C'è l'effetto vento? Ah vabbè sì Ha senso Ha senso Dai almeno una cosa Che ha senso In questo gioco Sì vedi proprio Che va anche verso avanti Olto a ti Pre Li vedi? Sì Sono lì Sono lì Sono lì Ma poverini Non ci arrivano qua Eh Infatti vedi che sono un po' confusi Stanno rallentando Ma non capiscono Ok Vabbè qui sopra Però è difficile arrivarci Eh Infatti io devo fare marcia indietro Secondo me devi chiamarli in qualche zona Magari in cui il treno è più E infatti io l'ho fatto Però poi siamo finiti qua Allora aspettiamo un po' Ovviamente quando saranno vicini Io cercherò di far partire del fuoco Certo A me è andato verso il basso È lì in questo caso Ma allora Se tu ti metti nel pavimento Quello non va verso il basso Va sempre verso l'alto E comunque il pompiere Che era a fianco a me Si è spaventato lo stesso Ma perché pensava Che lo stessi sparando Mi stai spaventato anche io Fere Ma i raggi di segnalazione Non fanno paura a nessuno Prima di tutto Cosa succede se noi mettiamo fuoco Un vicino del fuoco Gli altri lo spengono No scappano È importante Fere Scapperanno anche in questo caso No teoricamente Diciamo Cioè siccome loro firmano un patto Che se uno prende fuoco Gli altri lo spengono Guardali Ci riprovano però Signori Ci riprovano Attenzione Non si arrendono E riandranno dritti Perché Perché non riescono a rinforzare Potevano salere da questa stradina però No 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 Non si è mai Fere Non si è mai per loro Fare qualcosa di normale nel mondo Certo Questo treno potrebbe avere Il peggio incendio Che a loro non gli affraggerebbe nulla Assolutamente sì Fere ma non fa prendere fuoco Hai visto? Sì sì Allora spara 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 Allora Il treno si è fermato alla stazione Ci sono i pompieri dietro Quindi vediamo se fanno qualcosa Eccoli Guardate lì Allora Qua ci sono Cose di segnalazione Fuoco Tutto quello che ci può essere Però secondo me Non verranno lo stesso La polizia Si sta già iniziando ad avvicinare Perché sono egocentrici La polizia vedi Dimostra sempre Di essere l'unico servizio Utile In questa città Ultimissima cosa Proviamo a vedere Che cosa succede Se mettiamo fuoco A un pompiere Mentre ci sono tutti gli altri Io spero Che uno verrà a picchiarmi E che un altro invece Aiuti il suo compagno Sarebbe la cosa più giusta In assoluto Però Ormai temo che non andrà In questo modo Comunque Eccoli qui Buongiorno pompieri C'è un'emergenza gravissima Allora già qua che avete fatto Un incidente È un grosso problema Però io adesso ti miro Ti metto fuoco E gli altri Se ne vanno Scappano E' stato anche investito Dalla macchina Poveraccio E' stato anche investito Mi sento quasi in colpa Perché davvero Ti senti in colpa A toccare i pompieri Da quanto sono Poco efficienti No Sì Niente Quindi Anche un loro compagno Anche un loro collega Esatto Non l'aiutano E se ne vanno Sembra che O c'è un incendio Gli hanno fatti malissimo Suggetti ai pompieri E li hanno fatti Davvero 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 Male Bene che si è deciso Sentici un bel like E se è la prima volta Che avete detto il nostro video Potete considerarli Da iscrivervi Per non perdervi Di altri episodi Ciao E alla prossima Ciao Ciao Ciao